Capitano, non è fatto il discorso Capitano, non è fatto il discorso Capitano, non è dato il discorso Pra è sicuro che capito partiamo Andiamo! Andiamo! Vadovi al approfondimento Il secondo posto va! Vadovi everybody Vadovi evidentemente Ma è di perciò Vadovi che vado a tenere in passione Vadovi che vado a tenere in passione Grazie a tutti.